Video con abusi sessuali su bambini e bambine piccolissime, in alcuni casi neonati, immagini che circolano nel dark web, la rete oscura e anonima che spesso fornisce coperture e possibilità, fino a qualche anno fa inimmaginabili, ai fruitori della pedopornografia. Da Palermo è partita l'indagine, iniziata a ottobre 2019, che ha portato a 13 arresti e altri 21 indagati. È stata scoperta una rete fitta di scambi ed estesa in tutta Italia, con ramificazioni anche in altri paesi europei, perquisizioni e pedinamenti tra Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Torino e Trento, che hanno permesso agli investigatori della Polizia Postale, coordinati dalla Procura di Palermo, di sequestrare oltre 250.000 file, anche autoprodotti, archiviati in piccole pendrive, nascoste in contenitori di alimenti, nelle confezioni di medicinali o, in alcuni casi, nelle provette. Nella rete, individuata con indagini sotto copertura, ci sono impiegati lavoratori autonomi, professionisti, c'è chi ha il diploma di terza media, chi la laurea, a conferma di un fenomeno sempre più trasversale e diffuso.